Sbloccare 4,6 miliardi di euro del Fondo per la perequazione infrastrutturale per poter attivare gli investimenti necessari a colmare il divario e la disparità di accesso ai servizi in favore dei cittadini. Con questa richiesta, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha scritto una nota al Presidente del Consiglio, Giorgio Meloni, ai Ministri Fitto, Calderoli, Giorgetti, Salvini, Schillaci e Valditara e ai Presidenti della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, del Lupi e del Lanci, per sollecitare la ripartizione e l'assegnazione delle risorse del Fondo per la perequazione infrastrutturale, che dovrebbero essere investite in quattro settori di intervento, quali trasporto, sanità, idrico e istruzione. Considero fondamentale, soprattutto per le regioni del Sud, ma anche per l'intero Paese, ha evidenziato Emiliano, avere l'opportunità di utilizzare in questo momento storico i 4,6 miliardi di euro messe a disposizione dal Fondo per avere una sensibile riduzione del gap infrastrutturale tra le regioni e all'interno delle stesse, cosa che oggi rappresenta una finalità e una priorità indiscussa.